Sì, allora questo luogo per lei è un luogo simbolico, la sua campagna elettorale è partita dal porto, ogni tanto riporta le sue iniziative qui al porto e quindi insomma luogo migliore per gli auguri alla cittadinanza non ci potrebbe essere. Sì, è un luogo simbolo, è un luogo che lega la città al mare, che appartiene alla nostra storia, alla nostra identità. Quest'anno anche con l'accensione della sirena che è un simbolo di questo legame, di questa tradizione è anche un'occasione per augurare il Buon Natale a tutti i concittadini, a tutta la città. Il Natale è sempre un momento profondo, un momento di intimità, un momento anche di riflessione e anche di fede per chi vive le festività con lo spirito religioso. E allora una parola che mi sento di dire a tutti di vivere questo momento in serenità, invitando a fermarsi, siamo tutti coinvolti sempre da tanti pensieri, dalla frenesia del lavoro, delle preoccupazioni. Allora sia un'occasione per fermarsi, per legarsi a quelli che sono i valori, i legami forti e quindi l'augurio del sindaco a tutti è che si possa vivere queste giornate di intensità, in serenità, recuperando quei valori e viverlo anche con amore verso le persone care ad ognuno di noi e ad ognuno di voi.